Ciao a tutti, sapete che sul nuovo Meris 5 ho archiviato 300.000 basi musicali in un solo colpo? E la velocità con la quale il sistema naviga in un repertorio così vasto è incredibile. Ma come si fa a trasferire un intero repertorio su Meris 5? Da un computer e una passeggiata. Si collega il cavo di rete in dotazione, oppure possiamo utilizzare una connessione wifi. Lanciamo il software Meris 5 Manager, selezioniamo i file o la directory da trasferire e la procedura parte automaticamente, così mentre lui lavora noi possiamo continuare a suonare. Già fatto! 30.000 file musicali in pochi minuti? Fantastico! Se invece vogliamo caricare su Meris 5 il nostro repertorio da una chiavetta USB o da un harddisk esterno, sarà sufficiente inserire il dispositivo nell'apposita porta, selezionare import e il gioco è fatto. E qui viene il bello! Se siete possessori di un Meris 4 o di un Okie Web 4, vi basterà collegarli a Meris 5 tramite cavo USB e loro si riconosceranno automaticamente. Un touch e via! Tutto chiaro? Bene! Io torno al mio lavoro e voi cosa aspettate? Grazie a tutti!